scusate facciamo che al prossimo rutto me ne vado no ma no veramente anche lì adesso anche lì adesso rutta perchè tu continui a ruttare ma no 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 adesso adesso rutta per colpa mia dice come papà io non rutto mai quindi sicuramente per colpa tua orgoglia di papà no orgoglio di papà all'ottavo all'inizio dell'ottavo vabbè sei alla fine del settimo il sesto dovrei partorire a maggio se no sarebbe adesso al sesto più o meno era quello no vabbè ma sei arrabbiata per questo ma non ti ricordi amore ma io ci sono per le cose importanti sarà mica sarà mica importante poi sapevo sai cos'è no sincero adesso devo capire come uscirne è che mi ero concentrato su capire come funzionassero le settimane giuro vabbè non ti ricordavi neanche queste no 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 le ho scritte anche sulle stories e sul mio post oggi le hai anche lette oggi ma amore ma chi è che li guarda i tuoi posti secondo te io mi metto a guardare i tuoi post milioni di persone li guarda milioni di persone ma io no cioè io ormai metto like e basta l'hai anche commentato ho messo oh l'ho commentato mi piaceva la foto ti vorrei far notare che io ti commento sempre i post tu no cioè e poi ragazzi quando ma amore ma ti odifiavi non mi hai stirato la camicia io non tiro niente la mia assistente ci ha portato una torta salata buonissima quindi mangerò quella infatti mi sembrava altamente improbabile che tu cucinassi qualcosa amore che si fa a termine diretta dov'è raga non c'è amore non c'è è impossibile e prossimo colore di capelli di fede no basta mi sono rotto le balle non ne posso più adesso io gli sto dicendo che deve tagliarseli corti corti ma allora adesso è tuo e non è che decidi come io mi taglio i capelli gli stavo dando questo suggerimento ho detto che deve no no ho detto che deve hai detto così abbiamo una registrazione secondo me deve dovrebbe ah oh dovrebbe tagliarsi i capelli corti corti tipo proprio quasi rasati adesso colore naturale tagliare questo guardate che colore questa è cagata di piccioni no sembri veramente un backstage boy sai qui non lo so i cantanti anni 90 che si facevano che erano castani però si facevano un po' biondi ed era sempre questo colore senza che poi litighiamo anche da questa storia è che fede passa molto tempo per i cavoli suoi io anche però io ho più bisogno poi di fare attività insieme di fare cose insieme quando si poteva uscire di uscire insieme andare a cena fare queste cose qua adesso che siamo in casa di guardare un film insieme o guardare una serie insieme o fare qualcosa insieme e a lui questa cosa dà molto fastidio ma perché devi dire così perché è così sei stronza non è così non è così no però lui perché è così sei stronza non è così non è così no però lui gli dà fastidio avere degli orari ma è B certo no no avere cioè qualsiasi cosa dici dopo dopo c'era un film non voglio orari devo fare devo fare le mie cose è sempre così ragazzi ma non è vero e quindi quando stai in casa da un po' sei cattiva no è la verità amore ma sei cattiva non è così vi racconto la mia campana la verità poi sta sempre nel mezzo e che lei mi dice facciamo qualcosa insieme gli dico va bene giochiamo a risico no non lo voglio no solo quello ho detto ho detto risico perché abbiamo un risico tarocco di Game of Thrones e io non ci voglio giocare no abbiamo il monopoli di Game of Thrones il risico è quello normale va bene allora giochiamo a risico stasera ma ti ho detto 800 volte giochiamo a risico il problema è che lei mi dice guardiamo un film e mi fa sceglie lei un film brutto e si addormenta dopo 10 minuti giura giura che è così che io non ti dico guardiamo un film scegli tu se vuoi e tu mi dici non c'hai cazzi ma non è vero giuralo allora giuro che io a un certo punto lascio andare perché non ho mai libertà di poter scegliere un film tu non puoi scegliere un film giuro che tu non puoi scegliere un film che io non ti dico giuro che tu non puoi scegliere un film che io non ti dico ti dico sempre sempre se vuoi scegliilo tu perché così non mi lo voglio ok aspetta poi c'è anche questa da dire scusatemi lei si prende la parte comoda del divano io siccome devo stare di fianco a lei io sono cioè tipo cado dal divano io devo stare scomodo guardare un film che non ho voglia di vedere e che per giunta lei si addormenterà a metà film cioè che senso ha vabbè no ragazzi ho ragione io vi giuro se voi vedeste tutta la situazione dillo cosa che coca hai ragione ma assolutamente no no dai non pensi che fra i due sei tu più quello che fa lo stronzo no 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 assolutamente no no tu sei molto pesante ma io non non approfondirei live questa cosa perry altra domanda amore ti rimuovo dalla live grazie amore ma scusa hai detto va bene dai mi trovo sempre in mezzo a queste scelte difficili chiara non me ne volere io non ho scelte esistono due gigi nella mia vita e uno fa di cognome salve l'altra adid adid amore non farti mandare bad vibes in questo momento oh mio dio scusami amore non volevo dai devi uscire tu amore mi fa uscire e mi dice queste cose no sto scherzando ma infatti ho detto gigi nella mia vita di ferragni ce n'è una sola nella mia vita e mi hai detto gigi nella tua vita due cioè nel caso ce ne può essere uno che è luis fine ok allora scelgo luis peccato io veramente non so più ecco come faccio a togliermi io toglimi tu amore non posso devi far tu amore mia moglie si è incazzata com'è me la fai chiamare ciao chiara ciao no io sono nera 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 io pensavo che eri stanca perché hai preferito Luisa a me ti ho detto che io ci stavo sono sempre stata in tutte le tue cazzo di dirette ma amore ma eri stanca pensavo fossi stanca e non cioè andavo a letto prima che uscisse la canzone sicuro amore dai non fare così ti sento come una scusa Federico ti faccio un freestyle amore ti faccio un freestyle amore è vero perché non leggevi niente amore ti chiedo scusa quest'estate ti regalerò una medusa una rosa perché stai bevendo amore sto bevendo l'acqua sto bevendo l'acqua ma perché mi prendi per il culo è il coso di prezzemolo di gardaland direi ma ho visto che ci hai messo il amore era tutto finto è acqua attenzione scoop prime liti coniugali prima prima avevate litigiato anche sulla barca tipo mi ricordo poi siamo sposati da un po' di anni mi prendo uno spazietto per ringraziare mia moglie che mi è stata vicina in questo momento proprio grazie ma amore ma sì ma quello va bene ok me lo farei però mi hai fatto fuori dalla diretta che ci sono sempre stata ma amore ma ti ho scritto una poesia bellissima ti ho scritto una cosa tutta per te adesso ma ho capito ma non stiamo parlando cioè va bene quello è bellissimo volo volo sì 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 lo share lo share litigate per favore fatemi quella è bella in questo share quella è bella dico solo che non dovevi buttarmi fuori io intanto mi faccio vedere il mio booker pensavo che fossi stanca amore mio ciao hai detto voglio Luis voglio no c'è Max Pezzali c'è Max Pezzali hanno detto c'è Max Pezzali ho fatto le mani vostre facciamo un sondaggio ragazzi vi sembra possibile che siamo in vacanza non vuole uscire neanche in vacanza abbiamo mangiato solitarizzate con me sondaggio no fuori a cena voi siete in Sardegna in questa smerata mangereste a casa sì no si va fuori a mangiare non credete nessuna promessa che vi farà non credete non credete guardate che farà è come è come è come lei fa tipo un milione di posti di lavoro e poi non fa un cazzo demagoga populista che stronza che stronza il goto foro no dai che stronza ragazzi scatenatevi fate sentire che gli italiani valgono di più di questi stranieri qua ragazzi alle 8 finisce la votazione sorprese per tutti da parte mia anche io anche da parte mia no io so già cosa fare tu cosa fai anche io vabbè tu cosa fai io sarò una sorpresa anche per me sarò una sorpresa per tutto il mondo per tutto l'universo Monica nonostante io abbia vinto la stragrande controllate se non ci credete 155.000 contro 177.000 esatto sono una fidanzata così carina che ho accolto la richiesta del mio fidanzato di rimanere da un lato io sono contento ovviamente dall'altro lato no perché mi devi comprare una borsa è proprio vero che instagram non rispecchia la vita reale cosa che hai detto devi comprare una borsa hai detto ma quando hai detto c'era mano non è vero